dei prodotti naturali consiste nel fatto che essendo meno aggressivi naturalmente ci consentono di protrarre questi trattamenti per periodi molto lunghi. Facciamo un esempio banale, prendiamo un soggetto che ha problemi di dolore all'articolazione, quindi la classica artrosi, molto diffusa, legata chiaramente al passare degli anni, è evidente che in questo caso l'unica cosa che possiamo fare anche con le erbe officinali consiste nel prendere un qualcosa che cerchi di diminuire quello che è il sintomo più fastidioso e il sintomo più fastidioso dell'artrosi consiste nel dolore. Il vantaggio qual è? Che le erbe officinali, avendo un po' meno effetto i collaterali, possiamo usarle per periodi estremamente più lunghi, quindi possiamo rendere questo fastidio, questo dolore più sopportabile senza intossicarci. Erbe officinali, sembri l'alchimista di una volta, quindi tu sei la versione moderna dell'alchimista, di solito l'alchimista era nelle abbazie, di solito ero un monaco, tu invece non sei un monaco, quali sono le erbe officinali? Le erbe officinali sono tutte quelle che riescono a risolvere appunto queste problematiche, quindi dotate di quei principi attivi, quindi di quelle sostanze che riescono in qualche modo a darci sollievo. Fammi alcuni nomi? Ad esempio una pianta, stiamo parlando di artrosi, quindi a questo punto mi terrei sull'argomento, c'è una pianta che si chiama arpago, conosciuta anche come artiglio del diavolo, che contiene dei principi attivi che hanno un'azione anti-infiammatoria e anti-dolorifica. E questo artiglio del diavolo, come si fanno gli impacchi? O una tisana? Allora si usa sia per via orale, quindi per bocca, giusto attraverso le tisane, attraverso delle compresse ed anche per uso esterno. Adesso una volta si usavano solo gli impacchi, andando avanti col tempo anche l'erboristeria si è modernizzata e si adoperano ad esempio dei gel, delle creme a base di questa pianta che si chiama artiglio del diavolo. Ah sì, quindi mi do il gel, l'erbo officinale, diciamo me la do sulla parte e mi passa. Esatto. Posso usarlo anche per la schiena, perché io ho un po' di dolorine alla schiena. Soprattutto per la schiena, io stesso lo uso per problemi di cervicale, naturalmente. Oddio, oddio, adesso che me li citi me li sento tutti questi malanni.